Davvero un programma fitto di appuntamenti con relatori che verranno da tutto il mondo quindi davvero siamo onorati, contenti e felici di poter ospitare tante persone che in questi tre giorni si prepareranno all'appuntamento di pareggi del 30 novembre. Siamo contenti perché questo appuntamento lo prendiamo anche un po' come riconoscimento alle politiche ambientali virtuose che in questi tre anni grazie all'assessore Ubertini abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti dalla mobilità sostenibile alla città amica dei bambini, all'adesione al patto dei sindaci. Una delle prime delibere che ha approvato l'amministrazione che mi onoro di guidare è stata proprio l'adesione al patto dei sindaci, adesso stiamo elaborando il PAIS, quindi il piano energetico comunale che speriamo ci possa permettere di rispettare quel 20-20-20 che è stata la scelta della conferenza di Chioto e quindi la diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, l'utilizzo di energie rinnovabili e sostanzialmente il tentativo di modificare un sistema economico energivolo che invece dovrebbe virare in un'altra direzione. Non è un caso che Carlo oltre alla mobilità e all'ambiente abbia fra le sue deleghe anche nuovo modello di sviluppo perché noi abbiamo sin da subito cercato di concentrarci, seppur le competenze di un'amministrazione comunale sono in qualche modo circoscritte appunto al territorio che amministra su questo tema, sul tema di un nuovo modello di sviluppo, di nuovi stili di vita perché poi quando parliamo di ambiente, quando parliamo di cambiamenti climatici non esistono confini amministrativi, non esistono confini tra gli stati e quindi le scelte che si fanno in Italia producono effetti altrove e viceversa, quindi non c'è dubbio che ci sia bisogno di una presa di coscienza collettiva che deve partire sicuramente dalla politica ma deve transitare anche per i cittadini e proprio per questo io mi auguro che anche questo appuntamento così importante che ospitiamo in Rieti possa vedere la partecipazione della città perché c'è bisogno del contributo, della consapevolezza e del coinvolgimento dei cittadini perché poi i cittadini eleggono i propri rappresentanti istituzionali e i cittadini sono comunque il motore di qualsiasi trasformazione che vogliamo imprimere nella nostra società. Non c'è dubbio che questi sono temi cruciali per il destino del mondo e quindi anche delle future generazioni, non c'è dubbio che quello che è stato deciso a Kyoto purtroppo non ha prodotto gli effetti auspicati e c'è il rischio di un passo indietro su questi temi abbastanza evidente e purtroppo anche le ultime vicende legate a questa guerra contro l'umanità che alcuni avrebbero dichiarato non aiuta a mio modo di vedere una politica ambientale globale che invece metta insieme tutti i paesi del mondo per cercare di salvare il pianeta e soprattutto le future generazioni. Io concludo e termino ringraziando di nuovo tutti quelli che a vario titolo a partire dagli organi di informazione hanno contribuito in qualche modo alla promozione di questo appuntamento. In questi due giorni vogliamo aumentare anche la comunicazione perché pensiamo che sia davvero una grande occasione per discutere a rieti di temi così importanti. Se si scorre l'elenco degli invitati, di chi parlerà in questi tre giorni è davvero un appuntamento di primo livello, un appuntamento importante al quale non bisognerà mancare. Naturalmente un ringraziamento anche alla diocesi che non solo ha patrocinato l'iniziativa ma in qualche modo ha organizzato la seconda giornata e quindi insomma davvero anche qui un legame fra istituzioni civili e istituzioni religiose che deve essere alla base di qualsiasi iniziativa in questo ambito. Come giustamente ha fatto l'assessore anche io chiudo ricordando una grande proposta che abbiamo fatto al Vescovo e alla diocesi di Riedi che proprio nella giornata di oggi andremo a confermare di persona, ossia l'istituzione di un centro di etica ambientale a livello provinciale che unisca istituzioni civili e istituzioni religiose e che metta al centro il tema di un nuovo modello di sviluppo, che metta al centro il tema dell'etica ambientale proprio a partire da quella enciclica che tra l'altro ha un nome che è intimamente connesso a questo territorio perché ci parla di San Francesco, ci parla del Cantico delle Creature che insomma la storiografia ci dice San Francesco abbia scritto proprio in questa terra quindi davvero un legame per noi assolutamente saldo. Quindi davvero un ringraziamento a tutti ci vediamo mercoledì mattina per l'inaugurazione dei lavori e quindi davvero un grazie caloroso a chi ha scelto Riedi per questa manifestazione così importante.